buonasera a tutti ragazzi bentornati sul canadale a lens gamers qui alex e oggi siamo con la scalata del road to grand master ancora con khan sinceramente non mi dispiace perché hanno abbiamo vabbè la kinessa e però di là è un party veramente strano perché hanno due tre tre damage e due healer genus sicuramente andrà in cosa andrà in damage ma ne sono straconvinto la cosa strana è che non hanno tank noi siamo due tank due damage e un healer c'è qua o sono pazzi o semplicemente è buono non ve lo so dire andiamo andiamo dai 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 ma voglio vincere questa no almeno chi è che c'è la connessione dell'anteguerra bombo king di là ma lo so ragazzi un party così strano non l'ho mai visto oddio l'ho visto è a quei preliminari alle qualificazioni del per il rank ho trovato un party dove praticamente erano tre tank e due healer tra cui una ing livello 621 cioè viva la vita sociale dunque vabbè non stiamo a fare cose vediamo un po' di là infatti binary star victor con la cardio ma è gente che sa giocare o no non lo so io vado con cauterize è troppo troppo strano lo dico troppo strano vabbè va bene va bene va bene stanno a fare qualche cosa che non mi piace per nulla se nel frattempo sto morendo anche da questi eh da notare troppo facile sì ciao eh sì va bene va bene ti saluto va bene ma quanto cazzo ci metti sì sono morto va bene ma i 40 anni ci hanno messo è facile questa mi sa proprio forse una delle partite più facili nella scadata eh mi sa ragazzi e fu così che ci crescerò un furo ma manica di cappotto eh io pusho dai victor con la cardio non si può vedere non la posso vedere non la posso vedere io victor con la cardio te sei proprio un pazzo un folle proprio non lo so mi sembra troppo troppo facile intanto will lo mette spray così a random una series maiuscola proprio come ho detto uno scorso episodio ragazzi l'unico problema di khan è il fatto che c'ha che c'ha la ultima è che c'ha la ultima è che buggata eh io sono proprio chiappata tutta mazzusso vabbè 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 no io io mi astengo da da tutto ragazzi proprio mi astengo completamente non c'è 3 minuti e 55 and the wheel level up with more ma si magari sono partite che possono sembra scontate però è anche per farvi capire che trovi la mandata di partite che te la giochi partite che sono una disfatta e partite veramente facile e questo è l'unico problema secondo me di questo gioco cioè andare senza tank è veramente una follia o sei un grande esperto ovvero un top 100 dove proprio ti diverti e sti gran cazzo ma questi non mi sembrano niente di che ci hanno anche delle leggendarie abbastanza abbastanza precarie stavolta stavolta la ultimate ha funzionato o va random che no questi questi troppi ho a zero a merenda eh mi sono certificato per series eh non capita male willow io non non è mai piaciuta a willow perché è troppo facile come player veramente troppo facile non mi ha fatto accogliermi questo la voglio sapere vediamo se c'è qualcun altro no cioè dai oh genus stai scherzando questa è gente che non sa giocare che cazzo stava a mira si stanno a batti i peccati questi due no non è capito io nel frattempo faccio si va bene bomb king io non non l'ho capito questi parti qua io non li capisco proprio non li capisco proprio io pensavo che questo è un party troll per forza questo è per forza un party troll mamma mia però mi hanno quasi polverizzato mamma mia mamma mia eh questa volta ci muoio eh lo so è normale vabbè nessun problema dai ragazzi qui ci si lavora abbastanza bene non se non sono gran che stanno difendendo bene però la cosa abbastanza paradossale è che c'è quello che c'hanno e non riescono neanche a azzeccarmi scusate per me stolo ho provato a pushare ho provato a pushare non posso comprare niente ho provato giusto a pushare payload addirittura fa l'ultimate is ready dai va bene va bene ci può stare questa ragazza è facilissima come partita lo riconosco sta a salvare pure le ult dai ok vediamo un po' se stavolta l'ultimate mia funziona è l'unico problema di Khan io l'avete visto anche nello scorso episodio ho provato a luttare due volte e per ben due volte ma è fallita non c'è più il simbolino con la scritta che puoi grabbare non so se è una questione se vabbè ciao vado si sono trasformati questi qua questi gingillozzi eh oh senza senza ult non sa ulcarmi senza ult non sa uccidermi questo qui ok lo scherzo è durato fin troppo la trollata è durata fin troppo andiamo a vincere la vai no è ancora è tuttora puggata no semplice asce vabbè è fatta dai eh step into the light va bene dai easy questa è veramente facile ragazzi vediamo un po' i parametri 8-5 sì non ho fatto grandi grandi cose eh anche loro qualcosa hanno fatto hanno fatto nelle nell'ultimi momenti in ultimi minuti se no proprio era una disfatta totale meglio così oh è per è buono per noi per la scalata ragazzi appuntamento di oggi finisce qua ci si vede quel prossimo episodio della scalata al grandmaster alla prossima è buono per l'ultimo episodio